memori migi è stato escluso da oggi dal cast del programma oggi è un altro giorno a dare la conferma dell'esclusione è stata la conduttrice serena bortone oggi durante la puntata di giovedì 27 ottobre il noto cantante era finito al centro delle polemiche perché in un video che è circolato sul web sembra avere palpeggiato il fondo schiena alla cantante jessica morlacchi ex membro dei gasosa la conduttrice del programma di raiuno ha spiegato come avrete notato da lunedì memore migi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro remigi in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo e ha concluso per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto il riservo ma ora che l'episodio è diventato pubblico sento di avere un dovere di sincerità con voi di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a jessica solidarietà mia della direttrice dell'azienda e il mio profondo dispiacere mi fermo qui per ora